Jimmy Ghiglione scioccato? Perché tanto odio? Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Top 5 News Italia, il canale che vi porta le ultime notizie e gossip dal mondo. Oggi parliamo di una storia che dimostra come l'invidia possa prendere piede anche nei luoghi più inaspettati e come una famiglia si difende da questo scuro sentimento. Siete invidiosi, ma non solo nei miei confronti. Ma io vedo tutto quest'odio. Perché? Perché guardate che questa invidia vi logora tutti poi coi profili chiusi. Vi parliamo di Jimmy Ghiglione, noto inviato di Striscia la Notizia, che ha voluto condividere una notizia straordinaria riguardante suo figlio Gabriele. Il giovane è stato ammesso a una prestigiosa università americana dopo aver vinto una borsa di studio. Ma nonostante le congratulazioni da parte dei fan, non sono mancate le critiche e gli attacchi da parte degli haters sui social media. Con un video sui social ha sfogato la sua frustrazione, ponendo una domanda fondamentale. Perché tanto odio? Ha difeso il merito del figlio, spiegando che il successo non deve necessariamente essere frutto di raccomandazioni o ingiustizie. Gabriele ha dimostrato impegno e talento, guadagnandosi la sua borsa di studio. E chi è Gabriele Ghiglione? Gabriele è il figlio maggiore di Jimmy Ghiglione e Tania Paganoni. È un ragazzo talentuoso, appena diventato maggiorenne, e ha ottenuto un posto presso la University of Southern California. Questa giovane promessa ha acceso l'attenzione sui social, ma ha anche affrontato l'invidia e le critiche con maturità. Ora, guardando il quadro completo, possiamo riflettere su quanto sia sbagliato lasciarsi influenzare dall'invidia e dall'odio verso il successo altrui. La vita è troppo breve per sprecare energia in attacchi gratuiti. Ecco la domanda che voglio porvi. Come possiamo trasformare l'invidia in motivazione? Scrivete la vostra risposta nei commenti. E ricordate, costruire è sempre meglio che distruggere. Questo è tutto per oggi da Top 5 News Italia. Ricordatevi di condividere e lasciare un like. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale ed attivare tutte le notifiche tramite la campanella per non perdere le prossime notizie e storie interessanti. Ciao e vi aspetto alla prossima puntata!